Presentato a Firenze il progetto per il nuovo stadio che prevede anche un restyling dell'Artemio Franchi e la realizzazione di una cittadella dello sport che secondo i promotori del progetto sarà una delle più avanzate a livello internazionale con interventi che riguarderanno anche la viabilità e i parchi pubblici, quindi con una complessiva riqualificazione dell'area sportiva di Campo di Marte. Siamo qui oggi per presentare il progetto dello stadio che prevede anche un restyling dell'Artemio Franchi non solo il restyling dell'Artemio Franchi ma soprattutto un progetto che va ben oltre quindi alla realizzazione di un'area per noi importantissima, un'area che diventerà a livello internazionale tra le più estese, la cittadella dello sport, la cittadella che il nostro sindaco già nei mesi scorsi ne ha parlato un polmone sportivo che tornerà secondo noi a uno splendore che merita e che sicuramente tutti i cittadini apprezzeranno avranno modo di svolgere le proprie attività sportive in pieno orgoglio. Allora prima di tutto noi siamo partiti da cercare di fare un progetto sostenibile, fattibile, quindi ci siamo posti degli obiettivi che siano realizzabili e questo sia nella realizzazione della copertura dello stadio, sia nella realizzazione della nuova piazza, della struttura commerciale, delle avviabilità. Le caratteristiche principali sono la realizzazione di una nuova copertura che abbia una caratteristica di fattibilità anche per quella che può essere un eventuale confronto con la soprintendenza. La realizzazione intorno allo stadio è tutta un'area pedonale recuperando un po' anche quello che era il progetto originale degli anni 50, quindi pedonalizzare tutto intorno allo stadio con una cintura verde che dia qualità all'intorno dello stadio. La realizzazione di una piazza dietro la curva, dietro la tribuna maratona che praticamente diventa una piazza pubblica di un certo livello e di fronte a questa piazza la creazione di una struttura commerciale che non è un centro commerciale, è una struttura commerciale di quartiere, su una piazza pubblica, quindi non ha la galleria, pertanto i negozi saranno visibili dalla piazza. La sistemazione è tutta quella che è la piazza.